Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri della stazione di Massarosa hanno arrestato Alessio Palagi, 43 anni, residente a Massarosa, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lucca. L'uomo infatti, a conclusione di indagini, è stato individuato quale responsabile di numerosi furti avvenuti a Massarosa e frazioni Corsanico-Bargecchia nel periodo tra gennaio ed aprile 2018 insieme ad un complice di 39 anni di Camaiore. In quel periodo sono stati diversi furti, sono stati attribuiti alla coppia una decina da parte dei militari. Il modus operandi era sempre lo stesso, approfittando dell'assenza dei proprietari, forzando la porta alla finestra, entravano nelle abitazioni e rubavano tutto quello che trovavano dagli accessori di giardinaggio e da attrezzi da lavoro, genere alimentare, oggetti d'arredo, abbigliamenti ed elettrodomestici trovati nell'abitazione dell'uomo. Soddisfazione da parte della comandante della compagnia di Viareggio, Capitano Edoardo Cetola, che ribadisce che è stata preziosa la collaborazione anche dei cittadini. Indagini complesse ma che hanno visto una collaborazione attiva e fondamentale anche dei cittadini. Questo è un elemento molto importante anche per noi perché hanno collaborato fino in fondo e hanno fornito anche elementi essenziali per concludere le indagini. Il ladro al termine delle formalità di rito in ottemperanza al provvedimento di misura cautelare emesso dal Tribunale di Lucca è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Grazie. Grazie.